Ragazzi stamani vado al mercatino dell'usato compro una tracolla trovo dentro una poesia incredibile guardo l'autore ce l'ha scritto Ermanno Barontini ma non c'è traccia da punte parti su internet e allora cavolo questa poesia me la faccio mia e farò tanti soldi ascoltate le parole toccanti mi ha trafitto il cuore ascoltate La poesia si intitola Analisi Colesterolo 192 Treggeriti 202 Ferratina 74.0 Gamma GT 20 Cpk 100 Transamicinaceo GTO 12 Transamicinaceo GPT 42 Esame completo delle urine Colore giallo Aspetto limpido Glucosio 5,5 Proteine 5 Opilogeno 0,2 Idriti Assenti Peso specifico 1029 Cioè ma che bellezza Emocromo Neocipi Fizzotte 44 Eurotricipiti 584 Estrini Neonofili Ninciofili Monoscili Neofolini Ma parole che toccano l'immaginazione più creativa Glucoso Creatinina Filtrato stima di filtrato globale 73 E così via È lunga Bellissima